Siamo propiziati sempre da lui, guardate qui, la finta è poi Maggio, con il sinistro, che volete, che stia al Maggio, Superbike, ma che volete, tutti quanti sono le spalle, ora si, ora è il Napoli, ora riusciamo a riconoscerlo, è stato il Pocio Lavezzi, l'assist del Pocio Lavezzi, guardatelo bene, ha il passaporto in tasca, c'è l'ho!